Investire sulla sicurezza stradale è questo l'appello lanciato da Bernardo Mennini, presidente a Cierezzo. Un grido di allarme che si leva anche in conseguenza al venir meno della funzione politica della provincia il cui osservatorio tastava il polso fino a poco tempo fa della situazione in merito alla sicurezza stradale. La nostra richiesta, il nostro grido è dire facciamo sì che tutti gli anni vi sia un'attentissima manutenzione sia sulle strade regionali che su tutte le strade dando più risorse. È chiaro che qui la regione svolge la parte del leone, l'appello è un appello virtuoso, quindi non è una polemica assolutamente, è semplicemente dire vogliamo fare in modo che tutte le strade possano ricevere fondi e quindi le regionali benissimo diamo più soldi agli enti locali per far sì che loro possano ulteriormente investire proprio specificamente sulle strade di loro competenza e fare in modo che questo possa permettere un lavoro annuale sul singolo pezzo di strada in modo tale che le spese si abbassano perché se c'è una manutenzione ordinaria ogni anno non ci sono problemi. In più la sicurezza stradale una parte proviene anche dal fatto dello stato delle strade e chiaramente non ha danni in questo senso. E se la partita della sicurezza stradale si gioca sul campo della manutenzione, altrettanta attenzione va riposta anche sul tema della prevenzione. Il nostro obiettivo è quello proprio di partire dalle scuole, quelle dove non hai subito dopo da dover prendere una patente, ma cominci con la cosiddetta educazione civica che ti permette di capire come si attraversa una strada, perché si attraversa sulle strisce e piccole nozioni che ti portano poi vicino alla patente per il motorino e successivamente alla moto o alla macchina a condividere quel percorso. È solo quando tu condividi ciò che ti viene detto che lo metti in atto, perché lo condividi quindi lo fai tuo, questo è il concetto. ACI muove su questi principi.